Ok ragazzi, siete un re per ribelle, siete l'arci nemico del Kodakons, siete il coniuge di Chiara Ferragni e davanti a un giudice avete affermato quattro anni fa che eravate pure nulla tenente. E a queste condizioni che cosa potrà mai andare storto? Tutto nasce da un sedicente scoop di Repubblica, testata che il 15 febbraio ha pubblicato lo stralcio di un verbale di un'udienza di Fedez. In pratica Fedez nel 2020 è stato indagato per diffamazione e all'udienza preliminare il giudice gli ha rivolto le domande di rito. Domande che servono per l'appunto per valutare la consistenza patrimoniale dell'indagato ed eventualmente sottoporlo a qualche sequestro cautelativo o preventivo. Ebbene, alla domanda possiedi beni immobili o immobili registrati? Fedez ha risposto no. Il giudice un pochino perché era il 2020 ed eravamo sotto covid e le videoconferenze non erano esattamente il massimo e un pochino perché la risposta gli suonava ovviamente strana, gli ripete la domanda una seconda volta. D'altronde tutti noi sappiamo che Fedez gira in Lamborghini e vive in un attico che fa provincia. E Fedez ripete nulla tenente, precisando però che tutti i suoi beni sono in realtà intestati alle sue società. E la cosa apparentemente finisce lì. Sì, in parte perché probabilmente Fedez in quel procedimento ha ottenuto il non luogo a procedere e in parte perché è detto fra di noi al giudice dei tuoi beni registrati la stragrande maggioranza delle volte importa il giusto e cioè un grande zero barrato. Infatti nel 99,999% dei casi quella dichiarazione serve allo Stato in un secondo momento dopo la condanna per cercare di recuperare qualcosina nel caso in cui tu sia talmente improvvido da non pagare una multa di qualche centinaio o migliaio di euro. Spesso e volentieri infatti non è assolutamente necessario e neppure consentito procedere con il sequestro cautelativo dei tuoi beni senza contare il fatto che in un altro 99,999% dei casi in cui questo è necessario l'ufficio del pubblico ministero ha già fatto i suoi controlli e probabilmente sa meglio di te quali sono i tuoi beni. A distanza di quattro anni e cioè ieri o al massimo l'altro ieri la Repubblica riprende questo verbale, lo pubblica e lo trasforma in un mezzo scoop. Fenez appare perplesso e pubblica alcune storie su Instagram in cui si dice dispiaciuto per l'accaduto perché pare che Repubblica lo stia dipingendo come un tizio che lui in realtà non è e non riesce a capire esattamente quale sia il problema. Il problema sta nel fatto che il punto glielo spiega al Kodakons per il tramite di un esposto alla Guardia di Finanza. E' che se tu fai acquistare alla tua società una Lamborghini e un appartamento o più di una Lamborghini e più di un appartamento le tue società abbattono il livello degli utili perché naturalmente se compri una Lamborghini ti viene meno un profitto corrispondente al prezzo dell'auto. Se la tua società è in attivo di un milione è chiaro che spendendo 400.000 euro per la Lamborghini e 600.000 euro per la tua casa alla fine dell'anno la società ha un utile pari a zero e pagherà quindi 0% in tasse. E fin qui potresti pensare che non c'è nulla di male il tuo commercialista quando vede dei conti così normalmente fa la ola e quindi è una bella cosa e invece no perché in realtà la tua ipotetica Lamborghini e la tua casa non servono all'impresa, all'azienda servono a te per la tua vita privata. Quindi secondo il Codacon stai evadendo le tasse perché in realtà quel milione che hai speso per la tua vita privata dovevi dichiararlo come guadagno e dovevi pagarci sopra tutte le tasse di questo multiverso senza contare il fatto che la tua società verosimilmente ha pure scaricato l'iva sull'acquisto della Lamborghini e della casa cosa che tu come privato non avresti potuto fare. Ora, dato che l'iva normalmente ha il 22% solo scaricando quella ti sei portato a casa in maniera illegale secondo il Codacons non secondo me ambasciatore non porta pena non si spara al messaggero e via discorrendo. Comunque sia ti sei portato a casa circa il 22% del valore di questi beni senza fare assolutamente nulla mentre invece il privato cittadino che acquista la sua automobilina l'iva la deve pagare per intero non la recupera mai. Quindi mentre un privato cittadino che si acquista un'automobile da 20.000 euro facciamoci fratonda si ritrova a pagare 4.000 euro d'iva tu prendendo la Lamborghini scarichi l'iva della tua impresa per più di 40.000 euro. E poi, dato che la Lamborghini viene acquistata direttamente dall'azienda e non viene invece pagato a te il corrispettivo per comprarla risparmia anche sull'IRPEF e sulle altre tasse a cui invece siamo sottoposti noi poveri mortali. L'imbippamento del Kodakons e magari di qualcuno dei tuoi follower è tutto qui. Insomma, se davvero le cose stessero in questo modo tu fai volontariato quando hai tempo e voglia viceversa, noi cittadini il volontariato che è estremamente spintaneo visto che parliamo di tasse lo facciamo ogni qualvolta vediamo una busta paga o abbiamo la fortuna di vederci accreditato qualcosa sul conto corrente. Se dovessimo fare un paragone veloce veloce tu acquistando la Lamborghini solo d'iva hai fatto scaricare alla tua società circa 40.000 euro. Lo so perché ho controllato la Lamborghini Huracan che ti sei acquistato nel 2018 valeva più o meno 200.000 euro. Oltretutto su questi 200.000 euro non hai pagato le tasse come invece le avrebbe pagate un avvocato Catania qualsiasi che acquista l'auto per scopo personale. Quindi su 200.000 euro le tasse a quanto corrisponderanno? Più o meno un 50%? Ecco che pronti via letteralmente in uno snap tu non hai pagato 140.000 euro in tasse che invece noi comuni cittadini avremmo dovuto spendere. Poi naturalmente se scarichi la spesa per l'acquisto dell'auto scarichi anche tutta la spesa per l'acquisto della benzina della manutenzione eccetera eccetera tutte cose che non costano propriamente poco quando gestisci un'auto sportiva. E naturalmente lo stesso discorso si può fare per l'attico perché l'attico non lo usi esattamente per lavoro lo usi per viverci con la tua famiglia come normale e fisiologico che sia. E' per tutti questi motivi che il Kodakons che evidentemente ti ha preso proprio in simpatia in un abbraccio mortale ha presentato l'ennesimo esposto contro di te. Poi naturalmente io non posso sapere e mi guardo bene dal dire se questo esposto possa essere fondato oppure no. Non ho i dati per farlo e non è il mio lavoro. Posso solo dire che normalmente puoi acquistare beni come automobili e anche edifici quando servono per l'appunto per raggiungere i fini societari. Oppure ancora c'è un accordo particolare a monte con la società che ti permette di usare quei beni sempre e comunque per i fini societari. Ora naturalmente io non so come Fedez ha strutturato i suoi rapporti personali con quelli delle sue società. Si appoggerà certamente a dei professionisti e quindi avranno studiato queste operazioni in dettaglio. Tuttavia la regola di base è questa. Se l'automobile ti serve per lavoro e quindi la usi per spostarti o anche per fare servizi fotografici via uno o l'altro è chiaro che quello è un asset dell'azienda e come tale può essere acquistato e utilizzato. Ti può essere dato anche incomodato d'uso d'altronde lo usi per andare a lavoro o per fare cose di lavoro e anche per quanto riguarda l'abitazione vale la stessa regola. Tantissime società di medie e grandi dimensioni hanno delle foresterie acquistano delle abitazioni e poi ci parcheggiano dentro gli amministratori delegati o dipendenti che devono svolgere determinati compiti in determinate città ci può stare qui la complicazione consiste però nel fatto che Fedez salve errore da parte mia non è neanche legale rappresentante della sua impresa se non erro sono i genitori che curano la parte amministrativa e anche di legale rappresentanza per cui sotto il profilo della casa qualche problemino in più Fedez potrebbe anche averlo però insomma l'importante per noi qui è capire il meccanismo e il meccanismo è quello che ho già detto se Fedez ha in uso questi beni per raggiungere gli scopi societari il problema non si pone se viceversa quei beni li ha presi per svolgere la sua vita privata allora potrebbe esserci effettivamente un problema di evasione fiscale ma di questo per l'appunto si occuperà la guardia di finanza ed eventualmente il giudice tributario nel frattempo però fammi un favore non vantarti di tutta la beneficenza che fai perché sinceramente se anch'io potessi scaricare l'impossibile sulla mia società che detto fra parentesi al momento non ho potrei tirarli fuori anch'io un 100 150 mila euro per fare beneficenza li risparmio dalle tasse e voi che cosa ne pensate come sempre fatemelo sapere lasciando scritte due righe qui sotto se poi vi piace il mio canale considerate l'ipotesi di diventare un patreon o perlomeno di iscrivervi attivare la campanella condividere il link al video sui social che preferite e naturalmente mettere un mi piace grande e grosso come sempre grazie di tutto per tutto e a presto grazie a tutti